Musica Con l'accusa di traffico internazionale di droga dall'Albania verso la Puglia, la Guardia di Finanza di Brindisi ha sottoposto a custodia cautelare 17 persone. Lo stupefacente era destinato alle piazze di spaccio dei capoluoghi Messapico e Ionico. Dopo l'incendio che domenica scorsa ha coinvolto, un'azienda dedita allo stoccaggio rifiuti scatta il divieto di vendita e consumo di frutta e verdura nei comuni di Bitonto, Palo e Bitetto. Giugno sarà un mese cruciale per prendere decisioni sulle attività economiche della regione, così il direttore della Task Force per l'emergenza coronavirus che annuncia la possibilità di ripresa delle sagre da luglio. Si chiama SoApp ed è l'idea innovativa di 6 giovani baresi, ovvero un'app che ti accompagna passo dopo passo nel lavaggio delle mani, un'iniziativa patrocinata dall'Università di Foggia. Edizione delle 20 delle news di Antenna Sud ben ritrovati. Andiamo a Brindisi dove la Guardia di Finanza ha sottoposto a custodia cautelare 17 persone con l'accusa di traffico internazionale di droga dall'Albania. Sentiamo Gianmarco Di Napoli. Tonnellate di droga prodotte in Albania, sbarcata sulla costa Brindisina e trasferita poi nelle zone di spaccio della Puglia ma anche del centro nord. Un'organizzazione di trafficanti è stata sgominata dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e della sezione operativa navale di Brindisi che hanno tratto in arresto e posto ai domiciliari 13 persone e ad altre 4 hanno notificato l'obbligo di dimora. L'inchiesta, nata dopo il sequestro di un gommone avvenuto sulla spiaggia di Costa Merlata nel 2017, si snoda tra Brindisi, Taranto, Roma, Arezzo, Rimini, Forlì e Matera. Due degli arrestati risiedono a Brindisi, uno a Oria e un altro a Ceglie Messapica. Coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, i finanzieri hanno sequestrato complessivamente oltre 4 tonnellate di marijuana, mezzo chilo di cocaina e 27 mila euro in contanti. La droga proveniva dalla cosiddetta rotta balcanica attraverso potenti gommoni e oltre alle piazze di spaccio delle province di Brindisi e Taranto era destinata ad acquirenti dislocati in altre regioni italiane. L'organizzazione gestiva il traffico attraverso l'apporto fornito da ciascun indagato reclutato grazie all'intermediazione di un soggetto residente nella provincia di Taranto. Inoltre è stato possibile accertare anche la detenzione di armi da fuoco utilizzate per intimidire i clienti in ritardo con il pagamento dello stupefacente. Al termine delle indagini i magistrati della DDA di Lecce, Alberto Santa Catterina, Giovanna Cannarile e Luca Miceli hanno richiesto al GIP l'emissione di 17 misure cautelari personali. Ci spostiamo nel Foggiano, una bomba carta è esplosa intorno alle 13.30 ad Ortanova al momento dell'esplosione l'auto. Una lancia musa che vedete nelle nostre immagini era parcheggiata in via Fratelli Rosselli. La deflagrazione ha danneggiato seriamente il mezzo e ha messo in allarme i residenti del quartiere sul posto i carabinieri per le indagini di rito. Scatta il divieto di vendita e consumo di frutta e verdura nei comuni di Bitonto, Palo del Colle e Bitetto. Il provvedimento è stato disposto dai sindaci sulla base di una nota diramata dall'ASL di Bari dopo l'incendio divampato in un'azienda di compostaggio e rifiuti lo scorso 7 giugno. La prima ordinanza è stata emessa dal sindaco di Bitonto. A breve si pronunceranno anche le amministrazioni comunali di Palo del Colle e di Bitetto, anche se l'ASL di Bari ha già dato le direttive. Per la salute pubblica è vietato nell'area ritenuta di prima ricaduta di inquinanti la vendita e il consumo di alimenti di origine vegetali lì presenti. Tre comuni coinvolti, un'area di 7 chilometri dunque, laddove lo scorso 7 giugno è scoppiato un incendio che ha completamente distrutto un impianto di stoccaggio di rifiuti carta e plastica della società Eco Green Planet sulla statale 96. Il sindaco di Bitonto, dunque Michele Abbaticchio, per primo ha compreso la pericolosità delle emissioni. Sua infatti è l'ordinanza che vieta ad alcuni proprietari terrieri di vendere e consumare prodotti agroalimentari coltivati nell'area rischio contaminazione di propria competenza. Le amministrazioni comunali di Palo e Bitetto provvederanno nelle prossime ore. Intanto sono in corso ulteriori indagini tese a definire la concentrazione anche di microinquinanti organici sui campioni raccolti al fine di definire la necessità di operare eventuali verifiche sulla presenza di inquinanti anche sui terreni. I tecnici dell'ARPA evidenziano infatti che la via principale per l'esposizione umana ai contaminanti non è quella inalatoria, bensì quella alimentare, consigliando di valutare in via precauzionale l'inibizione del consumo dei prodotti ortofrutticoli ivi coltivati. E sulla base di questa relazione è che l'ASL ha scritto ai sindaci dei tre comuni. La xylella avanza e arriva nel barese 18 al momento le piante infette e cresce la preoccupazione per gli agricoltori. Paolo Franza Altre 18 piante infette da xylella fastidiosa all'ocorotondo nel barese. La malattia killer degli olivi avanza inesorabilmente. Le nuove infezioni accertate secondo Coldiretti confermano uno scenario oscuro causato dai ritardi regionali negli espianti degli olivi infetti da quando ad aprile 2015 per non abbattere 47 olivi malati si infettarono 3.100 alberi consentendo al vettore di continuare ad infettare migliaia di esemplari anche monumentali pregiudicando il patrimonio olivicolo e paesaggistico della provincia di Brindisi e di Taranto. In sei anni il danno provocato dalla xylella al patrimonio olivetato ha superato 1 miliardo e 600 milioni di euro. Sono 21 milioni gli olivi infetti con la mancanza di una strategia condivisa e univoca tra enti regionali, nazionali e comunitari per fermare la malattia e ridare speranza di futuro ai territori che hanno perso l'intero patrimonio olivicolo e paesaggistico. Dall'autunno 2013, data in cui è stata accertata su un appezzamento di olivo a Gallipoli, la malattia si è stesa senza che venisse applicata una strategia efficace per fermare il contagio che dopo aver fatto seccare gli olivi leccesi ha intaccato il patrimonio olivicolo di Brindisi e Taranto e ora è stata accertata la presenza di piatte infette anche in provincia di Bari. Cambiamo argomento, continuiamo a parlare della fase 3 perché giugno sarà un mese cruciale per prendere decisioni sulle attività economiche della regione. Così il direttore della Task Force per l'emergenza coronavirus, Lopalco, che annuncia la possibile ripresa delle sagre già da luglio. La stagione delle sagrestive 2020 potrebbe salvarsi, la regione infatti starebbe varando un protocollo che imporrebbe bancarelle a numero limitato e ingressi contingentati mentre per il wedding e le discoteche all'aperto sono quasi pronti i protocolli e a breve sarà dato il via libera alla ripresa. E' quanto emerso da un incontro tra i rappresentanti del Proloco e gli organizzatori di eventi, l'assessore regionale al turismo Loredana Capone e il capo della Task Force per l'emergenza coronavirus, Pierluigi Lopalco. Per quanto riguarda le sagre che attirano migliaia di persone, c'è la possibilità che si possano svolgere già da luglio con ingressi contingentati e numero limitato di bancarelle in rapporto alla grandezza dell'aria. Però il via libera definitivo dipenderà dalla situazione epidemiologica, come spiega Lopalco. C'è concreta possibilità che le sagre, con le dovute misure di sicurezza e prevenzione, l'evidenza e il professore, si possano svolgere già quest'estate. Tutto dipenderà dall'evolversi della situazione epidemiologica. Giugno sarà un mese cruciale per osservare il risultato delle aperture di maggio. Al termine di questo mese faremo le valutazioni e decideremo. A breve invece arriverà il via libera per il settore del wedding e per le discoteche all'aperto. Stiamo preparando i protocolli. Conclude Lopalco ancora qualche giorno di attesa. E a Bari riapre anche il teatro purgatorio con uno spettacolo simbolo per riaccendere la speranza. Dottor Pignataro, si affretti, dobbiamo riaprire il teatro. È vero, è vero. Anche se mancano due o tre giorni ci sarà già la folla dietro la porta. Con questi versi di Vito De Fano voglio iniziare. Anche perché il primo spettacolo fatto da me in questo teatro, il teatro purgatorio, fu una comedia di Vito De Fano. Si chiamava Numat Fusciuto da Vecchia. Prima i matti stavano nei manicomi, ma adesso i manicomi sono chiusi e i matti stanno tutti litigando per capire come uscire da questo coronavirus. Aprite i teatri al nuovo sole è il nome dello spettacolo con cui il teatro purgatorio a Bari, diretto da oltre 30 anni dal noto attore comico barese Nicola Pignataro, riparte. Uno spettacolo gratuito che vuole riaccendere la speranza e la scintilla della cultura teatrale nel capoluogo. Siamo pronti. Il governatore Emiliano ha annunciato la riapertura dei teatri a partire dal 15. Lei si è attrezzato, però sarà un'apertura simbolica, perché ovviamente le difficoltà a cui andate incontro sono tante. Tantissime, non tante. Le regole sono contraddittorie, quindi speriamo di azzeccarle al momento opportuno. Però aprire un teatro è una cosa fondamentale per chi, come me, ha vissuto tutta la vita su un palcoscenico. Lo vogliamo spiegare questo programma? Sì, il pubblico l'abbiamo invitato gratuitamente, ma a questo punto il denaro è l'ultimo pensiero, ma è il cuore che deve respirare, perché un teatro chiuso è la morte non solo del teatro, ma è un po' la morte di tutti, della cultura e del futuro. Il sipario quando si alza? Alle 20.30 del 15 giugno, ma prego tutti quanti quelli che dovessero venire, che verranno, perché abbiamo già quasi tutto esaurito, quei 50-60 posti che abbiamo potuto raccimolare per mantenere tutte le distanze, e quindi dobbiamo stare molto uniti, attenti e sperare nel bene. E se l'area del vino ha visto qual è la situazione al Teatro Purgatorio di Bari, Enrico Losito invece ha cercato di capire qual è invece la situazione in teatri e cinema di Taranto. Siamo al conto alla rovescia per le riaperture di cinema e teatri, la data è fissata per lunedì 15 giugno, un nuovo inizio non semplice per gli operatori del settore, che dovranno garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, contingentare e gestire gli ingressi degli avventori, utilizzo della mascherina obbligatorio per gli spettatori e misurazione della temperatura corporea, anche per artisti e maestranze, oltre a sanificazione e a reazione dei locali, utilizzo della segnaletica per il rispetto del distanziamento sociale e sfruttamento dei servizi telematici per la vendita dei biglietti, per limitare il passaggio del contante, regole ferree che non hanno di certo incentivato gli operatori del settore del capoluogo ionico, che sono abbastanza contrariati. L'apertura era prevista per il 15 giugno, secondo le disposizioni ministeriali, però noi non apriremo perché purtroppo ci sono delle limitazioni che non consentono la fruibilità del teatro perché saremmo limitati al massimo a 200 posti. Chiaramente tu puoi immaginare come sarebbe difficile poter organizzare un evento con costi di produzione notevoli con una limitazione di 200 posti. Quello che stiamo facendo, stiamo spostando alcune delle date della vecchia stagione da dicembre in poi perché io credo che i teatri non potranno riaprire forse, se la situazione virus ce lo consentirà, da settembre a dicembre. Differente ma non troppo la situazione relativa ai teatri e cinema all'aperto che hanno il vantaggio di sfruttare in alcuni casi ampi spazi rispetto alle strutture al chiuso. La nostra struttura, che è l'arena estiva in città più grande, rimane comunque l'arena estiva più grande, dati grandi spazi, chiaramente con una riduzione di posti a sedere, dove arriveremo intorno ai comunque 500 posti a sedere. Adesso guardiamo insieme il bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Un solo nuovo caso positivo ed è in provincia di Foggia nelle ultime 24 ore su 2945 test effettuati. Un solo decesso, anche questo in provincia di Foggia. 3516 sono i pazienti attualmente guariti e 467 i casi positivi ancora nella nostra Regione. Si chiama SoApp ed è un'idea innovativa di sei giovani baresi, ovvero un'app che ti accompagna passo dopo passo nel lavaggio delle mani. Ce ne parla Tiglio Scarano. Si chiama SoApp, l'applicazione che ti aiuta a mantenere le mani pulite. È l'iniziativa di sei giovani innovatori baresi patrocinata dall'Università di Foggia per contrastare l'eventuale diffondersi del Covid-19. Quello che ci ha mosso e quello che ha anche sposato l'Università di Foggia è proprio quello di voler fornire uno strumento di prevenzione individuale perché in questo momento storico, soprattutto dopo la fase del lockdown, i comportamenti individuali saranno quelli che faranno la differenza. Le mani sono il ponte elevatoio tra noi e il mondo, ma possono anche essere un pericoloso ricettacolo di batteri e virus, sostengono i creatori dell'app. Ed è per questo che curare la loro igiene rappresenta il primo strumento di prevenzione individuale contro la propagazione epidemica. L'idea nasce quasi per caso quando la comitiva di inventori si è chiesta come mai nessuno avesse ancora creato qualcosa come puro contributo nei confronti della comunità. Detto fatto, tempo due settimane, l'app viene creata, pronta ad essere scaricata dagli store, app che col tempo verrà ampliata e resa ancora più divertente e di facile utilizzo. Come funziona l'app praticamente? Una volta installata è sufficiente definire un orario di inizio, un orario di fine e una frequenza e l'app automaticamente ti invierà delle notifiche con cui ti ricorda di lavare le mani. Ad ogni notifica sarà possibile entrare nell'app e l'app ti guiderà in tutti i passaggi corretti o comunque tutti i passaggi suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia per quanto riguarda il tempo, sia per quanto riguarda le istruzioni. Cambiamo decisamente argomento. La Commissione UE è stata in contatto con le autorità italiane sul piano per la Popolare di Bari e sulla base delle informazioni rese disponibili a Bruxelles dalle autorità italiane durante questi scambi. L'intervento della Banca Popolare di Bari sembra essere conforme al mercato e quindi la misura in questione non costituisce aiuti di Stato. Le iniziative da intraprendere per fronteggiare l'eventuale chiusura di alcune filiali della Banca Popolare di Bari sul territorio regionale con relativo taglio occupazionale saranno inoltre al centro della riunione del Consiglio regionale della Basilicata, convocato in seduta straordinaria lunedì 15 giugno. Ma restiamo in tema popolare perché è stato firmato a Roma l'accordo tra sindacati e commissari scongiurati, i licenziamenti 650 e suberi spalmati nell'arco di 10 anni, prepensionamenti e pensionamenti con quota 100 ma solo su base volontaria. Sentiamo Monica Arcadio. Banca Popolare di Bari. L'accordo è stato raggiunto. L'intesa tra i sindacati bancari e commissari è stato firmato a Roma dopo settimane di trattative. Getta le basi per il salvataggio dell'Istituto di Credito Pugliese, spiega una nota. Il testo sottoscritto prevede circa 650 suberi sul totale di 2700 dipendenti spalmati su un arco temporale di 10 anni con l'utilizzo delle norme per l'anticipo della pensione quota 100. Pensionamenti e prepensionamenti saranno gestiti solo su base volontaria, esclusi licenziamenti ed esternalizzazioni. Medio credito centrale, che si appresta a diventare socio stabile della Popolare di Bari, mira a creare un polo bancario del Sud. E quanto affermano i sindacati, dopo l'intesa, pensionamenti e prepensionamenti permetteranno un risparmio di 67 milioni di euro, meno rispetto ai 70 inizialmente chiesti dai commissari. Saranno chiuse 91 filiali, anche in questo caso, con una riduzione rispetto alla richiesta dei commissari di 94. Scongiurata, spiegano i sindacati, qualsiasi ipotesi di esternalizzazione verranno confermati tutti i contratti di lavoro a tempo determinato. I sindacati hanno chiesto inoltre una discontinuità del management affinché il piano industriale sia gestito da un nuovo gruppo dirigente. Adesso si pensa al piano di salvataggio e rilancio della banca. Il 30 giugno ci sarà una nuova assemblea degli azionisti. Abbiamo cercato di rappresentare al ministro Gualtieri l'importanza della tutela degli azionisti, anche perché 70 mila risparmiatori pugliesi sono la spina dorsale della nostra economia, ha spiegato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che puri ha partecipato ieri alla riunione al MEF. È vero che è necessario salvare la banca, ha concluso che bisogna essere attenti alle questioni occupazionali, ma la cosa più importante è dare una prospettiva a questi 70 mila azionisti. Primi via libera al disegno di legge che prevede l'istituzione del Parco Naturale di Costa Ripagnola e i comitati e le associazioni condividono il progetto, anche se restano delle perplessità sullo sviluppo dei territori. Onofra D'Alessio. I più preoccupati sono i proprietari dei suoli edificabili, secondo i quali l'istituzione del Parco Costa Ripagnola, oltre a evidenziare violazioni alle leggi urbanistiche, rischia di rivelarsi un boomerang per l'economia locale. In Commissione regionale il parere favorevole è stato fornito dalle associazioni che spingono per l'istituzione dell'area naturale e con essa di tutti i vincoli di tutela. Secondo l'assessore regionale Alfonso Pisicchio, le aree naturali regionali costituiscono un laboratorio per la conservazione e l'implementazione delle biodiversità, nelle quali è possibile insediare attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Il disegno di legge va proprio incontro alla valorizzazione di quell'area. Il parco è una risorsa. Ovviamente stiamo valutando anche le legittime richieste se già l'assessorato sta predisponendo degli interventi emendativi a correzione per migliorare ulteriormente il disegno di legge proprio per comprendere quelle che possono essere le esigenze di un territorio. L'area del parco Costa Ripagnola, compresa nei territori tra Polignano e Monopoli, è un'area di rilevante valore paesaggistico e naturalistico, oltre che di particolare interesse speleologico. Favorevole il giudizio del Comitato I Pastori della Costa, Parco Subito, che dopo un'attesa di 23 anni ritiene sia necessario accelerare i tempi per l'istituzione dell'area protetta. Analogo il parere del Comitato Chiudiamo la discarica Martucci, secondo il quale ogni ritardo può essere rischioso per la tutela del territorio. Posizione opposta, infine, quella dei proprietari di alcuni suoli edificabili, secondo i quali il parco elimina diritti acquisiti da 30 anni. Andiamo a Taranto, invece, dove il Ministero della Difesa è stato condannato a un risarcimento di 673 mila euro alla famiglia di un dipendente della Marina morto a causa di un mesotelioma pleurico. Secondo i giudici avrebbe inalato amianto negli anni in cui ha prestato servizio sulle navi. Il Ministero della Difesa risarcirà la famiglia di un sottufficiale barese della Marina deceduto nel 2009 a 65 anni per mesotelioma pleurico diagnosticato lì nel 2007 e contratto a seguito del servizio prestato dal 1961 al 1987 con mansione di motorista all'interno di molte unità navali, soprattutto a Taranto e la Maddalena. Il Ministero è stato condannato a un risarcimento di 673 mila euro. Nella sentenza, spieghe legale della famiglia Ezio Bonanni, si legge come non vi sia alcun dubbio sul fatto che il militare sia deceduto a causa di un mesotelioma e sul fatto che la patologia sia stata accagenata dall'inalazione di polveri e fibre di amianto durante il periodo di servizio prestato dalle dipendenze della Marina. A riprova di ciò, sempre nella sentenza, si fa riferimento al fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate tra i marinai con 1101 casi di mesotelioma segnalati alla Procura di Padova. Nella sentenza, inoltre, il giudice spiega che per l'esercizio dei compiti delle mansioni affidate gli svolgeva la propria attività in ambienti contaminati senza che fossero adottate misure di prevenzione tecnica e protezione individuale nonostante la nocività dell'amianto e la sua efficacia patogena nell'inesco del mesotelioma fossero acclarati nella comunità scientifica dal 1964 così da sussistere la responsabilità del Ministero per non aver evitato che il proprio dipendente contresse la malattia. Insistiamo affinché ci siano finalmente le bonifiche conclude l'Avvocato Bonanni per evitare che ci siano altre esposizioni e purtroppo altri casi di patologie analoghe. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale ma restate con noi perché adesso c'è la pagina sportiva con Claudia Carbonara grazie per averci seguito, buona serata.